ciao bianca bianca sei pronta per giocare? però dobbiamo andare a svegliare il nostro amico eccolo la guarda sta dormendo così delicatamente ehi sveglia sveglia è ora di giocare ci sono sono pronto sono pronto ciao bianca eccoci qua che gioco possiamo fare oggi guarda io propongo questo abbiamo una bellissima torre colorata o ma è bellissima apriamo apriamo vediamo cosa c'è dentro oh ma quanti pezzi colorati bellissimi poi le palline ti piace questo? questo pezzo è rosso è molto bello però per fare la nostra torre dobbiamo partire dalla base viola blu verde chiaro verde scuro ecco brava proviamo a fare andare la pallina giù per la torre così guarda oplà hai visto che bella dai continuiamo a fare la nostra torre questo è il giallo mettiamo questo l'arancione e per finire il rosso ecco qua guarda bianca che bello guarda che bella torre e ora proviamo a far cadere questa pallina oh no è caduta fuori la riprendo io la riprendo io ecco tieni bianca tieni eccola riproviamo ce l'abbiamo fatta evviva brava pallina rossa ecco prendiamo anche l'altra e adesso proviamo a farne andare due insieme così bellissimo adesso possiamo provare con tre una due e tre bellissima bellissima bianca ti piacciono le palline? sì io voglio voglio giocare ancora dai maria va bene riproviamo ancora questa volta buttala tu ciao ciao salta nella cabriolet con me guarda dritta avanti a te suona il clacson e hai sentito cos'è? stanno entrando a scuola le mattinine di fare i compiti adesso è il momento per ridere insieme e imparare brum brum vieni a scuola con noi tutti entusiasti per l'autoscuola lili arriva in classe sempre per prima la sala cinesca è ancora chiusa ma tra poco si aprirà ed ecco i nostri allievi i veicoli da costruzione manca qualcuno il muletto è in ritardo la sala cinesca si sta chiudendo per un pelo mossa molto pericolosa muletto buongiorno camion pronti a scoprire quali sono le prove di oggi? oggi dovrete costruire un muro di cubi far rotolare la macchina giù dalla parete mettere i cubi sullo scaffale con i numeri 1 2 e 3 chi tra di voi può completare per primo questi compiti? muletto? eccellente! allora vai avanti aspetta caricatore luce rossa non puoi passare verde puoi andare il muletto deve raggiungere le piattaforme per affrontare le prove indicate dalla maestra lili prima di tutto costruiamo il muro ora il muletto proverà a costruire un muro di cubi vediamo se ci riesce con le sue forche può sollevare i cubi primo cubo è color rosso e lo inserisce nello spazio vuoto secondo cubo è blu e lo inserisce accanto al cubo giallo ora c'è un solo spazio vuoto e con il terzo cubo completa il muro benissimo prima stella prova dello scivolo prova dello scivolo eh sì un pezzo dello scivolo si è staccato non è un problema scivolo riparato ora devo piazzare bene il go kart ci riuscirà il go kart è scivolato giù come un vero campione bravo muletto merita la seconda stella attenzione ultima prova vi ricordate il muletto deve mettere sullo scaffale i tre cubi corrispondenti ai primi tre numeri numero uno eccolo al suo posto eccolo qua che succede? manca il cubo numero tre cerchiamolo forse l'ha visto eccolo e con i primi tre numeri l'ultima prova è completata bravissimo ecco la terza stella all'autoscuola tutti fanno festa al muletto alla prossima prova qui all'autoscuola